ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video finalmente prodotti finiti primo del 2022 allora è il primo video che faccio dei prodotti finiti del 2022 vi dico solo che ci sono due sacchetti pieni ma pieni di prodotti finiti che da gennaio a questo mese di marzo adesso voi non so se vedete il video a marzo o lo vedete in aprile però io sto registrando sto registrando a marzo per cui non so quando lo vedete questo video ma vi dico che ho solo due sacchetti pieni di roba non so quanto durerà questo video io ovviamente guardo se dura tanto farò la seconda parte ma credo che ci sarà la seconda parte ovviamente forse anche la terza la quarta dei prodotti finiti perché c'è troppa roba e dato che certe cose lo finite anche a dicembre e novembre mi sono poi dimenticata di fare il video vi dico solo che certi prodotti mi ricordo se sono buoni ottimi oppure se non mi ricordo vabbè vi dico promosso bocciato quello che mi ricordo iniziamo perché sennò questo video dura l'eternità e oltre fatemi sapere se volete un video dei prodotti che dura tanto che ne so sui 25 vabbè forse 30 minuti ancora un po troppo sui 25 minuti o se volete che io faccio un video di 15 minuti perché 10 minuti non ci sto dentro dove mi mostro i prodotti che finisco allora questa volta andrà così la prossima volta nella nuova casa spero che riesco a farvi vedere i prodotti quando li finisco perché se no ogni volta succede questo che poi i prodotti restano troppo la sia diventano troppi e poi non riesco a fare un video che dura di meno iniziamo questo video mi raccomando iscrivetevi al canale un like un commentino qua sotto se vi dice se avete provato questi prodotti e seguitemi su instagram detto questo vi dico iniziamo da questo prodotto che è igienizzante igienizzante per la lavatrice è una praticamente molti polvere si chiama soft allora è da 50 più 7 lavaggi praticamente 57 lavaggi rimuove germi batteri bianche splendenti anti antimacchia questo qua è ottimo sia un comodore che come diciamo polvere perché è praticamente la polvere una polverina dove lo mettete nella lavatrice ed è buono non è male come prodotto però è meglio che un stringo perché se no qua ci metto 12 anni solo per fare un video comunque ve lo consiglio buono l'ha preso il mio ragazzo l'abbiamo provato perché lui pensa che i prodotti in polvere sono meglio di quelli tipo in pastiglia o i liquidi questo non lo so infatti sto testando posso dirvi che adesso che vi faccio vedere queste qua che sono sempre le stesse inizio a stancarmi di queste pastiglie ma non perché non sono buone ma perché dopo un po l'odore non lo senti tanto con fronte di quelli liquidi o quelli in polvere ho notato questo allora io ho provato la ditsan pulito igiene questo qua 36 lavaggi da 4 è ottimo come prodotto è buono l'odore così così infatti come dico prima infatti come dicevo prima sono c'è come odore si sente di più quelli in liquido che questi qua poi ho notato che questi dato che hanno la tipo io la chiamo plastica però le pastiglie sono tipo hanno una plastica dentro che se vuole mettete dentro lo bloc in teoria non è che sia una cosa tanto ottima perché non va bene dato che c'è questa plastica molle non so come chiamarla comunque si potrei consigliarveli ma sto valutando di non prenderli più e c'è di non prenderle per la nuova casa e di andare avanti con le pastiglie liquide c'è liquidi in senso i detersivi liquidi perché non lo so non mi convincono adesso poi c'è gente che dice mai meglio se non li metti dentro nello bloc ma li metti nel cestino è normale che nella vaschetta fanno una certa cosa che non puoi neanche metterli e nel cioè no non cambia niente anzi è meglio metterli nella vaschettina della lavatrice che dentro però vabbè dato che qua ogni volta ricevo dei commenti non si fa così io faccio come voglio però lasciamo perdere andiamo avanti c'è questo seccazione enorme ah c'è un altro uguale però questo qua è fresh pover questo è blu e quello lì era viola secondo me non cambia niente secondo me comunque si sono buoni ma boh quello è quattro in uno sempre uguale andiamo avanti più veloce queste qua sono le salviette che sto usando e per il momento sono le migliori della rolle paris sono ai fiori rari pelle secche sensibili questi qua secondo me sono ottimi io li compro 3 euro costano tre euro un po tantino ma sono ottimi come salviettine per cui io li consiglio e vado avanti a usare quelli per il momento poi ci sono questi dischetti copreso da primark a 75 centesimi che rimuove sia il trucco e lo smalto io di più usati per lo smalto sono ottimi infatti quando vado da primark ne prendo almeno 3 4 pacchi parte che non ancora credo che la marca diversa però secondo me sono buoni e ve li consiglio perché questi qua da primark secondo me costano meno e risparmiate ma sono anche ottimi poi fabuloso questo qua è freschezza floreale marca ottima prodotto ottimo mettete su questo qua sul pavimento vi lascia l'odore che è una bomba lo ve lo consiglio è il migliore anche questo qua come marca migliore per cui ve lo consiglio non c'è niente da dire per cui stringo poi questo qui dell'anidria ho provato il bagno latte questo qua con proteine del latte dell'anidria sapete che io ho provato anche quello al quello per le mani il sapone non mi veniva il nome sia sia il sapone che questo sono ottimi vanno bene per la mia pelle che è diciamo delicata e ve lo consiglio è buono non mi ricordo quanto costa ma è ottimo io ne ho presi due adesso vediamo se ne ho un altro però è ottimo per cui ve lo consiglio adesso non so dove mettere i prodotti qua c'è un casino poi questo qui è il colluttorio per le gengive non è male però forse un po più fortino a parte il prezzo 5 euro un po esagerato però questo lo consigliano lo consigliano i dentisti l'ha preso mio ragazzo perché dice che migliore eccetera io l'ho provato si è buono però come prezzo è ancora da valutare però si ve lo posso consigliare come come prodotto per le gengive poi queste qua invece del Bennett sono bocciati questi salviette del Bennett occhi viso labbra e collo con acqua micellare di camomilla non li prendo più costano di meno ma non mi piacciono sono troppo pesanti e sono bocciati per cui le lasciamo dove stanno poi questa ace candeggina per i tu i tipi di macchie questa è buona è ottima anche questa non è male questa qua smacchia coloro e praticamente le magliette colorate e anche l'odore non è male è buono ve lo consiglio poi vi faccio vedere questi due così andiamo più veloce allora questi della sifora cioè vi giuro il migliore in assoluto è questo qua delle mani la maschera mani l'ho lasciata in posa per 15 minuti questo è al cocco sì se non sbaglio è al cocco ha un odore spettacolare appena l'ho messi su cioè vi giuro sulle mani vabbè adesso perché ho lavorato e ho le mani sette tutte rovinate ma vi giuro mettendo questa crema cioè questa maschera quando io dopo che sono tornata al lavoro ho messo questa maschera per 15 minuti l'ho tirata via cioè non vi dico le mie mani belle lisce e non avevano niente cioè non erano più rovinate come quando io lavoro cioè vi assicuro è il migliore io lo voglio ricomprare di nuovo infatti quando vado alla sephora io queste me le ricompro tutte perché sono ottime ve le straconsiglio cioè non ho parole appena l'ho usato ciao quello me l'hanno regalato una mia amica perché lei non le usa allora mi fa totte le regalo e gli faccio se sì va bene ho preso questi due che me le ha regalate lei questo qua sì non è male anche questo però questo qua non mi convince così tanto ma quelli le mani provateli sono bombe è una bomba spettacolare questi con i piedi ci vogliono 20 minuti di posa però così così preferisco cento volte quello con le mani poi questo qui della blade lo spray che adesso vi faccio vedere come è fatto questo qua è quello che è la bomboletta che metti in quello piccolo dura due rica cioè sono due ricaiche a 5 euro durano forse un mesetto dipende dal sensore di quante volte passi secondo me è ottimo questo qua è la vaniglia come ad ore sono ottimi e anche come come quando spizzano secondo me profumano bene per cui la migliore è la blade questo sicuro ve la consiglio poi questo qua io lo sto provando non l'ho ancora finito però vi avviso già della sephora questo qua la vitamina c più e è un siero che metto praticamente tutte le mattine e le sere in faccia avevo i puntini qua tipo delle macchie dei puntini con questo mettendolo quasi tutti i giorni basta sono spariti non ce l'ho più ne ho solo uno due e basta che ancora sto ma con questo vi dico che è ottimo come prodotto non so quanto costa perché io l'ho trovato sul calendario della sephora se non sbaglio due anni fa anche questo però lo sto provando ed è ottimo per cui vi consiglio questo della sephora che è il siero della vitamina cioè me li metto su mi mette la pelle mi lascia la pelle bella liscia e senza puntini mi tira via praticamente tutti i puntini che ho poi questo qua anche questo lo sto per finire è un luminante è stupendo sia il colore l'illuminante che si chiama super glow di natasha di nuna è ottimo costa un bel po anzi poi in un blog ve lo farò vedere se io lo sto usando non l'ho ancora finito ma vi assicuro che come illuminante top ve lo straconsiglio prendetelo perché è bellissimo poi questo è bocciato allora in teoria questo non l'ho comprato l'ho preso quando io andavo a lavorare andava al lavoro e dato che l'ho trovato sul mobile perché una signora se l'ha dimenticato ho detto vabbè tanto era chiuso è nuovo detto lo prendo tanto poi alla fine non tornava indietro a prenderselo per cui questo io l'ho preso preso sia questo che l'altro che non sempre shampoo questo è shampoo delicato al estratto di mimosa vitamina e questo è bocciato perché i miei capelli tutte le volte quando li pettino diventano fanno i nodi in poche parole per cui è uno shampoo proprio pesante che non va bene i primi capelli per cui è bocciato non so dove l'ha comprato questo ovviamente poi anche per i bambini però vi dico solo che è bocciato non mi piace invece questi anche questi qua li sto provando però voglio già avvisarvi che questi qua della nevia il correttore q10 pover allora io sto provando lo 01 e lo 02 mi trovo bene quello 01 perché lo 02 per il mio colore è troppo pesante per cui è un po bocciatino come colore invece lo 01 è migliore non copre tanto però è buono l'unica cosa che 10 più di 10 euro non so se le comprerei ancora però si un po copre per cui potrei consigliarvelo io con la mia pelle è meglio lo 01 per cui se avete il mio il mio stesso colore della mia pelle chiara il consiglio di 01 poi invece questa crema alla lavanda ve l'ho provata l'odore buonissimo perché buonissimo è l'unica cosa infatti l'ho praticamente svuotata per bene era è ottima come crema ed è buona per metterla nel viso per cui anche questa qua ve la consiglio perché sa di lavanda ed è buonissimo l'odore poi questo sì questo può anche questo ve lo posso consigliare ho glass questo qua praticamente è un non mi viene il nome praticamente è una cipria che fissa il correttore il fondotinta non è male mi sono trovata bene ed è anche ottima questa è buona solo che non so quanto costa questo l'ho trovata sempre nel calendario della sephora mi sono trovata bene e non posso dire niente perché è buona poi vi faccio vedere gli ultimi prodotti e poi farò la seconda parte perché qua e sono già è già tanto a il mitico cancelletta di maybelline questo quel correttore io sempre uso lo 03 ottimo non c'è niente da dire questo mio preferito quando lo troverò che l'altra volta era finito e ogni tanto in promozione per ogni tanto lo prendo anche in promozione a 8 euro ottimo è il migliore resterà sempre quello infatti cielo addosso copre bene non c'è niente da dire per cui ve lo straconsiglio poi vi consiglio anche questa crema sempre della sephora itch sound riller qualcosa del genere è buona anche questa qua non è male allora l'odore è anche buono quando lo metti su e poi ottimo anche per la pelle per la pelle per la faccia eccetera questa qua io l'ho provata è sempre campioncino perché l'ho trovato nel calendario della sephora però vista consiglio anche questa di sicuro costerà un bel po anche questo per cui io preferisco provare tante cose invece di star lì a comprare una e almeno che la migliore dice una bomba la compro ok come il correttore se no no poi vi straconsiglio anche questo fondotinta io ho provato il campioncino della bottega verde my color infatti ne ho tre ne usate tutte e tre ancora ce l'ho mi sembra il colore giusto perché va bene per la mia pelle per cui è giusto copre un po non tanto però è ottimo come fondotinta l'ho provato come campioncino ma ve lo consiglio se volete provare questo fondotinta provatelo perché buono poi questo qui delle aree rocher non mi è piaciuto questo qua è il latte idratante l'ho messo su l'ho fatto fuori subito perché sinceramente l'ho trovato nel calendario niente bocciato non mi piace per cui io non ve lo consiglio poi se volete provarlo provatelo poi c'è anche questo che è il gel gel rinfrescante e praticamente non mi ricordo comunque questo qua anche questo non mi è piaciuto tanto non mi ha colpito così diciamo come come prodotto non è tanto il migliore per cui bocciato poi il consiglio questo burro cacao che adesso non so perché è andato via la scritta si chiama i gintian magic qualcosa del genere e come burro cacao l'ho finito tutto l'ho usato un bel po anche questo sempre sul calendario della sefora ve lo straconsiglio perché ottimo vi lascio le labbra belle non mi viene la parola come sempre comunque è ottimo ve lo straconsiglio provatelo andiamo più avanti più veloce poi vabbè questo della sefora non ci sono più perché è da tanti anni che ce l'ho sono dei brillantini che non erano male sono sono ottimi ma io ve le faccio vedere ne ho altri due da consumare e da tanti anni che ce l'ho però non è male sono ancora buoni da utilizzare sul viso io di solito l'utilizzo sugli occhi quelli sono ottimi invece il mascara jagobs questo qua lo scovolino è ottimo perché è facile da da mettere sul mascara e per il mascara non è male è buono ovviamente lo sto testando perché ce l'ho nella borsa però non è male come mascara per finire che c'è questo saccato è finito questo qui lo shampoo bar respire non è che mi è piaciuto tanto cioè per me è bocciato per cui ovviamente non lo ricompro sempre campioncino trovato nel calendario della sefora ho visto che costa abbastanza un bel po è made in francia ma per i miei capelli non va bene per cui è bucciato non non mi piace per niente questo io direi che farò la seconda parte del video perché vi faccio vedere ecco fatto cadere tutto l'altro sacchetto gigante che ovviamente ho e questo video dato che è durato anche troppo 22 minuti con tutta sta roba che vi ho fatto vedere io direi che metto a posto qua e vi faccio la seconda parte così voi la vedete poi nell'altra settimana non ve la metto insieme perché sennò vi sparate con un video diverso con un video uguale e per cui ve la metto separata adesso vedo se metterla in questo video marzo e l'altro video ad aprile vediamo come mi organizzo vediamo un po comunque fatemi sapere se avete provato questi prodotti se non l'avete provati fatemi sapere se vi convincono se invece l'avete provati fatemi sapere come vi siete trovati faccio le rime però detto questo io vi saluto perché è durato anche fin troppo questo video e ci vediamo al prossimo video ciao